www.mesmerism.info 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 Occhio a tutta eh! Buona terra, riparti, riparti Max, Max, vai Max! Max è in regolare Dai Max, dai Max Perché rallentate? Nooo Perché rallentate? Ma guarda il contrasto figa, perché rallentate? Punizza, dai arbitro Dai fischia, sono... Il destro, il sinistro Abbiamo un bomber Bellinghieri Momenti coincidati Allora Buono Punizione dal limite ragazzi Punizione dal limite Allora Dai Billa Billa su pallone, attenzione Moccazzo Ci credo che volano Arrivano, si vedono Si dai, io non posso sprecare 10 minuti filmato ogni volta Si vedono Ma si sentono di sicuro Ma si sentono di sicuro Allora Eh ma non ce la faccio Ah, niente da fare Niente da fare Contropiede Parti, che parte Terry Parti, che parte Terry Bello Buona 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 grande guappo che l'ha messo su minuti finali minuti finali ah niente dai anche lì dai che lì che la prendiamo dai reparti buona buona avanza mano dai che lì dai 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 dai